cammina eccolo arriva arriva sono morto il lancio a fiobbe 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 vabbè dov'è vabbè cioè non mi puoi fare vedi che porca troia lo passavo tranquillo se tu lanciavi il razzo avevi vinto no insopportabile guarda il fiero dove ho fatto arriva se tu lanciavi il tuo cazzo di razzo invece di sta ah non spingi il cazzo di pulsante ma sai che è un problema per me è la coordinazione cervello-mano ho capito Alessio ma andavi spingi un cazzo di pulsante non è che devi fare la coordinazione mano-testa avevo passato tutto eh sì invece l'avevo fatto tutto la x e il quadrato sono vicini mio padre di 85 anni disse così quando da piccolo gli feci provare la playstation mi stanno dicendo che sono la reincarnazione di freddy mercury che grido più a gradochieliana però faccio questo computer cosa faccio questo Alessio ma stai facendo il gioco a caso si mi dici cosa fa esci non serva a niente siiii non serva a niente esci guarda stai lui che cammina te che cammini da un'altra parte proprio come usa il sintonizzatore o uso la scatola usa il ricrablaggio ma ce l'ha fallo tu questa roba qui le falle tu perché io non so che cosa significhi fallo te c'è l'alieno di fianco ma stai scherzando qui non ti può vedere non ti preoccupare ma che significa che non mi può vedere qui non ti può vedere dai usare il ricrablaggio ma smetti ma non c'è niente è una è una vecchia stazione spaziale fanno sempre questi rumori quando gioca a piani sani l'alieno non si avvicina perché non sa cosa aspettarsi best culo gamer comunque ti stanno tutti dicendo la cosa che è incredibile c'è dovresti dove sei qua dove eri prima dove sei stato a giocare con le due guardie per ore tira là dentro una cassa fammi uscire prima non esco cosa devo fare per uscire dritto eh non si muove più ma che c'era ma incredibile si è incazzato è tutto da rifare ma è incredibile scusate ragazzi è la puntata serale è stata rimandata al 2016 è incredibile posso rifare la corsa è incredibile ma hai visto cosa gli hai fatto fare io è partito ora non si sa dove ho sbagliato ho sbagliato però non devi mettermi ansia sei solo te che dicevi non entrava nei cunicoli volevo provare è un problema volevo provare volevo tirarmi via lo spizio una volta io sono imbarazzato ma che vuoi fare dobbiamo fare la puntata giochiamo con gli occhi chiusi dall'indietro con il rinnesso con il rinnesso e io sono l'handicap ma che significa io esco ma perché non usi mai le casse acustiche cioè io guarda lancia una cassa acustica là ma si usa le cazzo le casse acustiche qual è il bottone dov'è a destra perché c'era il fuoco metti prima la mappa nasconditi che bo' arriva lo cazzo passa c'è il cunicolo lo so lo so cioè non puoi dire che non sto facendo showtime eh ma cosa showtime stai giocando come un deficiente e sto facendo showtime showtime perché quando vedi i problematici che fanno le azioni in un showtime ma accendi la luce non si vede un cazzo adesso no ma soltanto la conosco ci sono già passato prima vale c'è l'uscita qui ma vuol dire lo conosco e sbatti contro i muri lo conosco l'ho passato prima e vai a sbattere contro gli angoli cioè io veramente c'è sempre questo problema nell'uscita io che ansia questa cosa Alessio veramente è ansiosa proprio eh devi uscire è inutile che stai qua fermo oh sta entrando ah si però ho sparato ho sparato il lanciafiamme ma dove va? no Massa mi sono rotto le scatole perché gli sparo il lanciafiamme non succede niente Alessio non sai giocare è evidente no 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 è evidentemente fallato cioè un vague tremendo perché gli ho sparato diretto il lanciafiamme preparato sparato fuoco si Alessio ma gliel'hai sparato in un punto in cui lì dove pretendevi che andasse dove pretendevi che andasse che scappasse ma comunque non mi può uccidere gli ho sparato il lanciafiamme di fronte sono minimamente d'accordo con te non sai giocare è tutto lì il problema si vabbè ma qua si fanno delle risate 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 risate